Mancano dieci giorni circa all'inizio della preparazione precampionato per il Giarre agli ordini di mister Maurizio Romeo. In questa settimana abbondante che separa dallo start dell'inizio della stagione non sono attesi particolari sussulti di mercato da parte del presidente Gianni Di Martino e del direttore sportivo Luca Scuderi dopo l'arrivo del secondo portiere Messina. Si cerca la sorpresa magari valutando qualche ragazzo in prova perché le richieste di ingaggio dei giocatori di categoria sono troppo alte rispetto ai parametri della società. Si attende comunque che tra agosto e settembre il mercato anche relativo a qualche big di categoria sia un po' più alla portata sempre nella speranza magari che si riesca comunque a rimediare qualche buon affare a costi contenuti.